Buongiorno, buongiorno ragazzi, oggi che cosa facciamo? Andiamo a Boboli, bravissimo, andiamo a Boboli, se non sapete che cos'è, seguite questo vlog, andiamo! La magia! Eccoci qua, siamo arrivati al giardino e ora ve lo mostreremo! Alla prima salita già siamo stanchi e si incomincia bene! E più guardiamo l'orizzonte più ci sono salite! Che avete appena visto è l'anfeteatro di Boboli, che è uno dei più famosi di Boboli di Firenze Quella è una bambina e questo teatro è il più antico teatro di corte di Firenze, ma dove stiamo? A Firenze! A Firenze! A Firenze! Alla Bambina e questo7 . Faccio vedere! Ha visto bella la Grotta dei Bontalenti? È davvero molto bella, solo che molti non riescono a catturarla visto che è il buio, ma noi abbiamo un'attrezzatura buona e ci siamo riusciti. Qui le salite continuano. La stanchezza si inizia a far sentire. Decisamente. A me si era fatta sentire dalla prima salita, anche perché dovete venire armati di un gran fisicone, tanta acqua e soprattutto buona volontà. Grazie a tutti. la nostra visita sta quasi per finire guardiamo le ultime cose o ad esempio questa bellissima cosa è questa questo è un portico floreale ovviamente adesso non ci sono ancora i fiori però spunteranno a breve semmai spunteranno e spunteranno spunteranno noi stiamo andando adesso verso la che cosa verso la vasca non mi ricordo in questo momento non mi ricordo quale vasca insomma comunque quella in fondo e la facciamo vedere e ora intanto noi camminiamo camminiamo verso questi luoghi ameni iscriviti al canale ragazzi ora siamo veramente alla fine del giardino di bobole anche perché anche se non volessimo c'è l'autoporlante che ci sta incitando a levarci dai coglioni quindi insomma dobbiamo andare via quindi ragazzi vi è piaciuto questo giardino di bobole se si scrivetelo nei commenti e se vi è piaciuto davvero tanto iscrivetevi anche al canale perché così oppure se non vi è piaciuto il giardino ma vi siamo piaciuti noi iscrivetevi uguale esatto quindi ci vediamo al prossimo vlog ciao 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 ciao